Sul mercato assolutamente non ci saranno rinforzi, se dovesse partire McKennie abbiamo Quadrado, abbiamo De Ciglio, abbiamo Sule che può giocare anche da esterno, cambieremo sicuramente anche Assetto se ce ne sarà bisogno ma quello non è un problema, l'importante è come è ora che abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori. Ho parlato con John Elkaman, assolutamente non abbiamo parlato di questo, abbiamo solamente domandato di come sta andando la squadra, poi il resto credo che in questo momento qui ci sono talmente tante cose da fare, bisogna soprattutto stare concentrati su quello che è il campionato, non bisogna mai perderlo di vista perché abbiamo quattro mesi dove ci sono obiettivi da raggiungere, assolutamente no perché comunque c'è l'anteriore di mercato e quindi credo che la società abbia già trovato l'accordo con la società con cui dovrebbe andare McKennie e quindi domani è inutile avere la disposizione di farlo giocare. Stanno bene, nel senso che hanno fatto dei buoni allenamenti, hanno fatto un buon test, il secondo test l'altro giorno, Vlaovic come condizione credo che sia un po' meglio di Pogba, ma anche proprio come struttura fisica, però Pogba già negli ultimi giorni è venuto più avanti e quindi se c'è la possibilità domani, comunque quando un giocatore è convocato vuol dire che è disponibile per giocare, è normale che non hanno 60 minuti nelle gambe e ne avranno 30 a dir tanto. Buongiorno a tutti, come ci arriviamo? Ci arriviamo dopo due partite dove abbiamo fatto, sì è vero, con l'Atalanta abbiamo fatto una bella partita, però abbiamo raccolto solamente un punto. Sappiamo che nelle ultime due partite abbiamo fatto una sconfitta e una vittoria, è un pareggio, abbiamo subito 8 gol e su questo dobbiamo assolutamente migliorare, perché comunque avevamo subito 7 gol in 17 partite, abbiamo subito 2 gol in 8 partite, più quello della Coppa Italia 9 facendone solamente 6 gol, quindi su questo bisogna assolutamente tornare alle vecchie abitudini. Al prossimo episodio